Alessandro Maestri vicino di casa perché abbiamo scoperto che di Torre Pedrera noi pesaresi siamo molto felici di avere la possibilità di intervistare una star del baseball non italiano mondiale una ex star mi sono ritirato nel 2020 è stato il mio ultimo anno e ti ringrazio per le belle parole diciamo che negli anni ho avuto la fortuna di vedere vivere tante esperienze belle grazie a questo sport allora diciamo ai nostri spettatori i cinque continenti che hai girato perché forse ti manca solo l'Africa mi manca solo l'Africa tant'è che ci ho anche pensato a fine carriera di fare una partita in Africa diciamo che sono stato in America ho giocato appunto negli Stati Uniti ha sfiorato la MLB la major league di baseball ha esordito in due partite di precampionato poi ha fatto una bella trafila in leghe minori esatto esatto diciamo che ho provato a vivere quello che era il sogno americano e ci sono arrivato molto vicino poi purtroppo non è andata come avevo sognato però poi comunque questa sport mi ha portato in giro sono andato in Australia e per poi passare dal Giappone e Corea Messico e per fare poi ritorno gli ultimi tre anni a San Marino comunque vicino a casa e ho finito gli ultimi gli ultimi anni lì ecco la Romagna l'Emilia è una fucina del baseball italiano quali sono i motivi per cui è così radicata nel nostro territorio parlo di nostro territorio perché essendo due passi esatto beh forse abbiamo la fortuna di avere anche storicamente delle società che hanno sempre lavorato bene e quindi hanno costruito qualcosa e questo qualcosa poi si è protratto negli anni e questa è una bella fortuna che abbiamo in Emilia Romagna e adesso questa fatica letteraria se ci vuoi presentare questo libro che hai scritto tra l'altro con Elio quindi una firma prestigiosissima che ti ha accompagnato in questo tuo lavoro assolutamente devo ringraziare Elio, devo ringraziare Baldini Castoldi che mi hanno dato la possibilità di scrivere questo libro è stata una vera e propria fatica soprattutto all'inizio perché poi quando mi hanno detto ok scrivi non è stato facile però è stato molto bello anche rivivere tutti questi momenti è stato un bellissimo percorso anche scrivere questo libro e strada facendo anche lì mi sono incontrato comunque mi sono ecco un po' sciolto sono riuscito forse a raccontare anche in modo dettagliato tutti questi questo percorso tutte le difficoltà che ho avuto grazie mille grazie a voi in bocca al lupo grazie 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 a voi